Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna per traffico intenso. Sulla Firenze Mare, traffico rallentato tra Prato Avest e Bivia 11 a 1 in direzione di Firenze. Arriviamo ai fipili rallentamenti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandicci ancora una volta verso il capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze e in corso in questi giorni il preesercizio della T1 Leonardo nel tratto compreso tra Stazione e Careggi. Formiamo inoltre che su via di Careggi per lavori fino al 12 luglio il tratto da via dei Massoni a via Cosimo e il Vecchio è chiuso. Prima di salutarci per il traffico ferroviario informiamo che le biglietterie di Borgo San Lorenzo, Signa, Montecatini, Pescia e Sesto Fiorentino quest'oggi sono chiusi al pubblico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!